Se no... Ciao! Hani-hime desu! Oggi risponderemo alle vostre domande! Start off! Ara-chan ci chiede Curiosità mia, avete mai pensato di fare cover di brani cantati da gruppi composti da voice actor e voice actresses? Come si legge? Actresses! Non l'ho detto giusto! Tipo Muse di Loveline Abbiamo capito, diciamo... Esatto! Beh, sarebbe bello! Non diciamo di no, però sarebbe sicuramente una possibilità Qui Loveline abbiamo già fatto qualcosino Noi in passato abbiamo fatto... Abbiamo fatto Stardash! Eh sì! Io non l'ho fatto! Basta, adesso puoi salire! Come è andata la promozione del vostro mini album? E come vi sentite quando portate sul palco le vostre canzoni originali? In bocca al lupo ragazze! Yeah! Claudia! Grazie Claudia! Ci siamo sentite da dio! Yeah! Un sacco! Bellissimo! Cioè, senti un certo vibe quando fai le canzoni che hai fatto tu. Prima perché incredibilmente riesci a ricordarti tutto, anche i singoli dettagli dietro la canzone. Tutto Cucico ci guarda e fa Ragazzi, ma vi rendete conto? Questa è la nostra canzone! E' stato bello anche quando ci hanno intervistate per Radio Animati Praticamente direttamente sotto il palco Esatto! A un certo punto hanno messo in radio le nostre canzoni Noi eravamo dentro, diciamo, lo studio della radio Usciamo e sentiamo ancora le nostre canzoni E abbiamo scoperto che andavano negli speaker di tutta Lucca C'è stata una cosa troppo bella che mi ricorderò sempre Siamo andati nella zona dietro, la zona dove abbiamo fatto l'intervista E dovevamo andare in bagno, cioè... Anche le radio E dal bagno due o tre persone si continuano ancora a sentire one eye per il radio E due tre persone ci fanno, ah ma siete voglioni Perciò riguardo alla domanda che diceva come sta andando la promozione Sta andando alla grande Non ci aspettavamo, diciamo, un risponso così positivo Una risposta positiva Ma guarda, siamo partiti bassi Noi avevamo detto Ma perché siamo partiti con dei dubbi, cioè Esatto Facciamo qualcosa per noi, alla fine Era il bello di realizzarsi personalmente e avere il cd nostro Ma senza pensare chi poi effettivamente l'avrebbe comprato Quindi grazie Veramente a tutti quanti Gigi Davis ci chiede Quali sono gli obiettivi delle hanihime futuri? Beh, parlavamo del cd Il grande obiettivo è stato già... Esatto Uno dei grandi per un altro obiettivo era anche Luca Esatto E' riuscita anche questa Quindi Abbiamo raggiunto due dei nostri più grandi obiettivi Dobbiamo fare i pv Arriveranno presto Ci stiamo lavorando Stiamo dando tutto a noi stesse per questi pv che sono quasi più difficili da fare che a gente Esatto Perché devi pensare tutta una storia dietro e capire le location dove... Stiamo diventandoci recettrici Esatto Comunque avere la possibilità di creare le cose da noi Ti rende una persona comunque più artistica e... Ti dà molta più soddisfazione che se te lo fa qualcun altro Comunque a parte i pv dobbiamo fare anche nuove cover Esatto E poi soprattutto stiamo cercando di fare più live ma oltre la nostra regione Perché dopo l'Italia c'è l'Europa Dopo l'Europa il mondo E dopo il mondo? I sette pianeti che sono appena stati scoperti? Eeeeeee Rosenberry ci chiede Quali sono i vostri anime preferiti? Con quali cartoni siete cresciute? E qual è la vostra sigla in italiano o giapponese preferita in assoluto? Tre domande Allora, adesso posso certamente dire che il preferito in assoluto è One Piece Ragazzi vi sento da qua a dire Sì sì cavolo è il migliore lo so lo so Condividiamo questa cosa Ad occhi lo sanno anche i muri Diciamolo tutti insieme 3,2,1 Sailor Moon Ma che bravi! Eeeeeee Buon! Io il mio anime preferito in assoluto è Gawgaygar Perché io sono una grande fan degli anime mecha Anche se non sembra Non sembra esatto Lei piacciono i robottoni Mentre sono cresciuta Con Sailor Moon E tutti i cartoni in maggiocco Quindi sono una fan dei cartoni in maggiocco Perché sono la mia infanzia Però se devo scegliere un anime preferito Appunto è quello che ho detto mecha Direi che nell'epoca era proprio quella dei maggiocco Quindi penso che tutti Però sono anche cresciuta con Dragon Ball e Pokemon E' vero Dragon Ball! Dragon Ball che adoro E Pokemon con cui gioco anche adesso Quindi sei volete sfilare E Kanna tu con cosa sei cresciuta? Io guardavo quello che guardava mio fratello Perciò Dragon Ball, Pokemon E tutti i maho shoujo Tra cui Doremi Miu Miu Hai con la sigla preferita Allora ci sono due canzoni che sono tipo bellissime Dell'anime Shingeki no Kyojin Che sono Guren no Yumiya Che la conoscete ovviamente E Jiyu no Tsubasa E tra queste due sinceramente non saprei quali scegliere Perché sono così bellissime Però... Ma la mia sigla ti batte! Perché parlando di anime che mi piacciono Il mio anime preferito ha anche la sigla mia preferita Andatevele a sentire La mia sigla preferita è Koikuru Di One Game My Melody Oh è il momento della pausa Basta! Ta-da! Il sapoteto Taimu Mangeremo Un Honey Flavored Twist Snack C'è un'ape carina Guardatela che bella Sembra l'ape Maya Unboxing Oh l'hai aperto bene Oddio quando ci metto una delle patatine nella mia area Comunque è mezzo vuoto Non c'è niente Ma è mezzo vuoto e mezzo pieno? Aspetta Caterina Però sono buono Sono stane ma son buono Allora L'odore sta... Sono di aria Olio 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 come cacolo è possibile? ma sono di niente no fa di piadina fritta secondo me sono particolari no le mangio sarebbe al honey o al apple? honey apple? i got a honey? i got a apple? a me ti manca la patata? eh scusa credo che ce l'abbia onestamente non lo mangia che è meglio ma però si sono particolari se volete andare a chinatown a prendere queste china potatoes provatele ma forse sono coreani a dir la verità si sono coreani sono coreani hanno i migliori sign grazie mentre le mie colleghe si abbuffano io leggo la gentilissima domanda di gianfranco allora come gestiscono la vita privata le hh ovvero le heil hitler di gianfranco che sui fogli dove ci sono le lyrics fai dei disegni si beh che bello disegni a un certo punto disegna una tizia che salta e con la maglietta con la scritta heil hitler allora come gestiamo la vita privata? non gestiamo beh sai essendo vip è un po' difficile abbiamo un'agenda piena di impegni dobbiamo sempre andare in giro con gli occhiali da sole e con la mascherina sennò ci riconoscono siamo tutte molto impegnate abbiamo delle vite frenetiche abbiamo relazioni e cose vale riusciamo a gestire tutto perchè siamo fighe siamo fighe Angela ci chiede cosa ne pensate dei gruppi idol cinesi e coreani? dici quali sono i tuoi preferiti coreani per esempio ascolto le karaoke pop quali cantanti ti piacciono coreani? conosco le orange caramel anche a me piacciono tanto vado a canzoni c'è quella di shy boy di chi è? secret shy boy oh 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 my boy a me piacciono le orange caramel le conosco tutte le canzoni sono tutte a memoria e poi recentemente mi piacciono le twice anche se piacciono troppa gente però ammetto che le canzoni sono belle quindi me ne frego così si fa così si fa i gruppi cinesi non li conosco ho scontito delle canzoni però diciamo che non è che mi appassionano tanto però li conosco io ho un gruppo che seguo seguo no? perchè non so neanche se è ancora attivo effettivamente si chiamano le C S.H. ah si sono quelle del Big T tra l'altro e poi un'altra che si chiama Angela Wang una cosa del genere sono artisti solisti soprattutto che ascolto diciamo artisti solisti cinesi bravi ce ne sono un casino cioè sono vero si si ma noi la nostra vera passione negli idol asiatici e ve le consigliamo tantissimo sono le idol thailandesi banzuppa 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 magari vi mettiamo il link si consigliate dalle onehime si flugelmations magari invece di become one of your bees potete dire join the hive se andate a leggere l'info box scriviamo sempre become one of our bees ovvero diventa una delle nostre apette perchè chiamiamo i nostri fan apette quindi voi siete le nostre apette perciò lei chiedeva se invece di dire diventate diciamo parte delle nostre apette invece di dire quello di dire perchè non fate parte del nostro alveare vuol dire praticamente che noi i nostri fans si chiamano api esatto quindi diventiamo le nostre api che noi siamo solo le principesse del miele alveare è qualcosa di più grande che non avete ancora visto e che forse scoprirete presto o forse non scoprirete mai un segreto si sa ho già fuggito and who is your queen bee? madonna ora ikiterun owa bushitsuteki naga ah dai bushitsuteki naga and our trainees love until they grow into a bee lol di xd per ora non per ora niente non abbiamo nessuna nessuna ragazza in prova diciamo no chi lo sa non si sa se in futuro ne prenderemo altre per adesso diciamo che stiamo bene come siamo e non abbiamo la necessità di averle altre per adesso siamo un trio allerte e pieni di brio poi dopo si vedrà cosa? le bee come intende nella frase cioè sono i fan noi siamo le principesse quindi al massimo una recluta può diventare principessa esatto diciamo che qui sono i fan be yourself come sono nate le anime? da un alveare finito il video ti chiamiamo una volta c'era una volta c'era una volta una ragazza che si chiamava Kanako e organizzò questo hey it's me che organizzò un incontro per persone che erano appassionate alla musica del giappone e in questa occasione questa ragazza conobbe doka che è qua doka e Kanako si incontrano per una volta ma già sapevano di amarsi profondamente non so e poi abbiamo deciso di formare un gruppo idol perché abbiamo detto si mai piacciono gli idol? anche me! questo gruppo nasce anche con un'idea di una sorta di progetto con altre persone però diciamo che poi gli obiettivi erano diversi quindi noi consideriamo il vero diciamo la vera data di nascita dell'Eone Ime il giorno del cosmo il gennaio del duemila... cin... quindici? boia! quindici! quindici! inizialmente eravamo tre membri eravamo Doki, Kanako e Kotomi successivamente abbiamo fatto le audizioni come ben sapete è entrata Achi poi da dicembre duemila e quindici la formazione è cambiata di nuovo abbiamo preso Pujiko new born baby e adesso siamo così come abbiamo già detto insomma queste siamo queste adesso rimaniamo mangia con me così non parli più hai sentito la cattiveria? hello darkness my old friend tu sei yandere? yanderissima e lei tsundere? io sono normale no ma tu sei... normale cosa? cioè io sono quello che sono capito? be yourself tu sei... compranci di... tu sei l'eroe tipo no iro dai irooo abbiamo finito le domande yeee grazie a tutti per averci fatto queste bellissime domande sono state molto interessanti e ci siamo divertiti a rispondere come sempre perchè noi ci divertiamo sempre al prossimo video HANI HIME DESHITA bai bai